Guarda la stanza di oggi, ha detto che qualcosa di riposito al piano, e regolassi i nostri spessi. Questa è la stanza di... E' 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 il discendente che si fa quando a segue. E' la stanza di... Ecco voi ricordate che in arena, ma poi ero dalla città. Adesso farò vedere una cosa romana, dove è scritto, e l'imperatore Caglieno commissioneva la mura che danno a 265 per proteggere l'arena, ok? Ma queste mura erano alte circa 14 metri. L'arena raggiungeva un'altezza di 30 metri. Erano così basse perché l'imperatore terrorizzato da questi barbari ebbe solo 4 mesi per costruirle, no? Successivamente arriverà a me l'una di imperatori Teodorico. Ora, stiamo adattare qui questo secolo, io mi intero è libero, io mi intero è libero, io mi intero è libero, ma però una cosa che si porta... ...di una, tutti noi per ore di tempo, qui ci sono lì come solo, a 같습니다, a parte che è una, a parte che è una protesta, è una protesta di scala, a parte che è una protesta, che è una progetta, che è una pesta, una protesta, la protesta, è una protesta, e un popolo, si può esplirare, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.